Modula ha realizzato un sistema che si chiama Puntulite. Di base questo sistema è un sistema di display fondamentalmente che funziona in questo modo. Intanto vengono assegnate quelle che vengono chiamate delle piazzole che sono proprio delle posizioni fisiche alle spalle del magazzino in cui dispongo dei carrelli o dispongo di casse con dei sistemi di trasporto sul rulliere o altro e associo a ciascuna posizione un display. Ad esempio ipotizziamo di gestire 5 posizioni. 5 posizioni do al magazzino di 5 display. A questo punto quando eseguo degli ordini il sistema mi associa a ciascun ordine una posizione, quindi se avessi configurato 5 posizioni è un numero assolutamente di esempio, possono essere anche molte di più o anche di meno. Una volta che gli ho associato queste 5 posizioni, bene, questo già mi introduce un limite nel senso che assegnando a ciascun ordine una posizione posso eseguire un numero di ordini contemporaneamente pari al numero di piazzone definita, nel nostro caso 5. Se provassi a eseguire un sesto ordine il sistema mi direbbe no, non è possibile in questo momento. Di questo sistema noi forniamo i display, tutta la parte elettronica di controllo e cablaggio, la struttura di fissaggio dei display, però dove fissare questa barra la fornisce al cliente, potrebbe essere a volte sono stati realizzati dei portali in alto se ho dei sistemi di trasporto particolari, oppure anche fissati alla base della rulliera giusto per avere un'emilizzazione. Le caratteristiche del display sono di un pulsante di validazione che può essere acceso fino a 7 colori, un display grafico OLED e una struttura di supporto in alluminio. Il sistema PultoLight funziona in questo modo, diciamo ipotizziamo, qui salta fuori perché ho parlato di 5 display, di 5 posizioni, possono esserci due soluzioni possibili, con dei display condivisi e dei display non condivisi. Se guardiamo a sinistra i display condivisi, ipotizziamo un paio di magazzini verticali, affiancati. Bene, viene segnato un colore a ciascuno dei magazzini perché questo farà in modo che nel momento in cui io devo prelevare qualcosa dalla macchina più a sinistra a quella rossa, il display si accende di rosso. Quando devo prelevare qualcosa dalla macchina più a destra, il display si accende di verde. Le macchine lavorano in parallelo, quindi possono lavorare uno o anche due operatori. Bene, quando ho qualcosa da prendere sul modulo 1 appartenente ad un ordine, mi si accende la luce nella posizione corrispondente. Stessa cosa sul modulo 2. Se ho da prelevare per due ordini diversi, avrò due display accesi. Ma cosa succede se su entrambe le macchine debbo prelevare qualcosa su il medesimo ordine? Bene, il display coinvolto lampeggia, quindi devo selezionare se sono l'operatore che viene dal rosso piuttosto che dal verde. Questo, oltre ad introdurre un ulteriore passaggio, è foriero di un possibile errore, nel senso che se io mi sbaglio, vengo dal modulo a rosso e distrattamente confermo il prelevo del modulo a verde, confermo qualche cosa che non ho fatto. Per questo motivo c'è la possibilità anche di passare la soluzione con i display non condivisi descritta a destra, in cui ho due display, perché ho due macchine per ciascuna posizione, quindi nel caso, come prima, in cui entrambe le macchine mi presentino qualche cosa da prelevare per lo stesso ordine, avrò i due display accesi, quindi divento più veloce e con meno rischi di errore. Grazie. Grazie.